Signori buonasera e benvenuti in questo nuovo RECAP di Champions League Siamo oggi qua con i ritorni dei quarti di finale di Champions League Che si sono giocati martedì e mercoledì In questo video faremo anche quelli di Europa League La prima partita è stata PSG-Bayern Monaco Ricordiamo che il Bayern Monaco doveva recuperare 3 gol Cioè doveva recuperare 3 gol per poter passare Cioè doveva fare 2 gol senza subirne nemmeno uno Ha fatto solo un gol segnato da Ciupo Motting Quindi il PSG ha vinto per gol fuori casa nonostante il complessivo del 3-3 Porto che vince in casa del Chelsea per 1-0 Ma doveva fare 2 gol per poter passare Segna al 94esimo un grandissimo gol in mezzo a rovesciata di Taremi Poi abbiamo Liverpool-Real Madrid che il risultato è 0-0 Quindi passa il Real Madrid con il risultato di 3-1 dell'andata E Manchester City-Borussia Il Manchester City ha vinto 2-1 Grazie alle reti di Kevin D Allora si parte in vantaggio il Borussia Dortmund con Bellingham Che è il primo, è uno di, è il secondo posto con i diciassettesimi Cioè è il primo posto Allora vediamo un po' se riesco a trovare quello che volevo dire Comunque uno dopo Bojan Kjorkic E tra i più giovani a far gol in Champions League Ricordiamo che Jude Bellingham ha 17 anni Ma poi il Borussia praticamente si rovina la qualificazione O perlomeno comunque si rovina la qualificazione Perché prima subiscono un calcio di rigore per un fallo di Emre Can E poi fa il 2-1 Phil Foden Quindi abbiamo le semifinali che si giocano martedì 27 E sono Real Chelsea e PSG Manchester City E ora parliamo invece dell'Europa League Mi ricordiamo che nella partita del Bayern Monaco Di quella è una partita tra PSG e Bayern Monaco Neymar ha preso due pali Quindi sfiga su sfiga per Neymar Parliamo invece adesso del Real dell'Europa League Anche qua si sono giocati i quarti di finale giovedì 15 La prima partita è stata praticamente molto molto easy per l'Arsenal Grazie alle vittorie a 4-0 sullo Slavia Praga Risultato complessivo di 5-1 Si perde in vantaggio l'Arsenal con Pepe Il 2-0 Lacazetto su calcio di rigore 3-0 Saka e 4-0 ancora Lacazette Che è tipo il primo giocatore francese Cioè tipo il terzo giocatore francese A fare 50 gol con l'Arsenal In qualcosa del genere Poi abbiamo la vittoria del Villareal per 2-1 Contro la Dinamo Zagabria Grazie alle reti di Gerard Moreno E poi non mi mette il secondo marcatore Google che caspita mi fai? Penso ben segnato Alcacer comunque Tra le fii e il gol del 2-1 Lo timbra Orsic Poi abbiamo un'altra vittoria Abbastanza easy per lo United Contro il Granada Risultato complessivo di 4-0 Le reti dello United Firmate da Cavani E l'autogol di Vallejo Pareggio tra Roma e Ajax Si perde in vantaggio l'Ajax Con Brobby Fa l'1-1 Zeko Quindi Roma in semifinale La semifinale saranno Manchester United Roma E Villareal Arsenal Si giocano giovedì 29 Quindi Per questo recap Di Champions League D'Europa League Ormai siamo al culmine Delle due competizioni Quindi ci vediamo Al prossimo video Che sarà domani Recap Di questa Della 31esima Giornata di Serie A Vi ci vediamo Al prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti